Vi porto a vedere un campo dove abbiamo giocato Genua in Serie A, cioè non in Serie A, ma Regina, Atalanta, Messina e tantissime altre squadre. Siamo quasi e vi faccio vedere in questo campo. Ragazzi questo è il comunale di Mezzana, è lo stadio dove abbiamo giocato tutte queste squadre di Serie A. Vi dico di più, io ho visto diverse partite, ho visto un Regina Val di Sole, un Regina Mezzana, un Messina contro una rappresentativa iraniana, è uno stadio davvero in condizioni sempre ottimali e quindi niente va bene così insomma. Tra l'altro ho trovato un porcino. Ciao ragazzi al prossimo video, spero vi sia piaciuto, avete visto il campo è in condizioni veramente meravigliose. Ciao a tutti!